Ma quanti tipi di patatine fa pata? Aceto balsamico, pomodoro balsamico e poi questa, al gusto peperoncino. Sassi, origino, saporitissime e così croccantissime. Tutte prodotte con il metodo anale. Credetemi, non ce ne sono di uguali. Eh, 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 Jerry, le patatine devi metterle nella busta, non toglierle. Mi tocca, sono il testimonial. Lineal. Patata, patata, un piaciata, inimitimini, inimitata.